A Teramo continuano le analisi del voto post-amministrativo e ora si comincia a delineare lo scenario del prossimo Consiglio Comunale, dove troviamo tante conferme, qualche ritorno e pochi volti nuovi. Il nuovo Consiglio Comunale prenderà forma sulla base delle preferenze accordate dagli elettori e candidati delle 15 liste scese in campo a sostegno dei tre aspiranti e la carica di sindaco. La vittoria di Gianguido D'Alberto apre alla sua colizione le porte della maggioranza che vede tante riconferme rispetto alla precedente. A partire da Giovanni Cavallari, vice sindaco e assessore uscente, che rientra in assise col primato dei voti conquistati, ben 961 le preferenze ottenute ed è il risultato il più votato in assoluto fra tutte le liste. La cosa più importante è la riconferma di D'Alberto perché ovviamente la bontà del lavoro che abbiamo messo in campo in questi cinque anni è stata premiata dai cittadini con un risultato incredibile. Molti continuavano a pensare ad un ballottaggio, noi eravamo sicuri del fatto che avremmo vinto al primo turno. Ovviamente il risultato mio personale aiuta e contribuisce ovviamente al risultato del sindaco. Se riterrà di volermi coinvolgere nuovamente sarò felice nella consapevolezza che non è sicuramente la delega che verrà assegnata a fare la differenza, è la qualità del lavoro che poi ognuno di noi mette in campo e che in qualche modo porta a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Nel caso di specie ho avuto delle deleghe importanti, laddove il sindaco ritenesse che questo lavoro sia stato ben fatto potrei continuare a seguire le stesse delega e come pure cambiarle. Importante riconferma anche per l'assessore uscente Antonio Filipponi della lista Insieme Possiamo con 856 preferenze. È una fiducia che è anche relativa al lavoro che abbiamo svolto negli ultimi cinque anni, ma è un incoraggiamento anche per il futuro. Perché adesso io ho vissuto questo momento delle elezioni in maniera un po' diversa rispetto a cinque anni fa. Cinque anni fa sentivo forte il desiderio della città di uscire fuori da un momento difficile e complesso. Oggi sento invece molto la responsabilità di continuare questo percorso di crescita. Mentre nello schieramento di Carlo Antonetti troviamo la donna con maggiori preferenze 498 ed è la candidata con la lista di Futuro In, Caterina Provisiero. Sono molto contenta, è un risultato di spessore perché era anche una lotta molto, era una giungla quest'anno. Quindi io sono molto contenta, credo che siano delle preferenze quelle persone che mi conoscono per come io lavoro, per come cerco veramente di operare sempre per il bene della mia città. Però merito ai vincitori, io entrerò in Consiglio Comunale nell'opposizione e io credo che anche un'opposizione sana, collaborativa, è sempre attenta affinché l'amministrazione possa lavorare veramente per il bene della città.